Maddie McCain, questa è una delle bambine più ricercate d'Europa. La piccola Maddie è sparita la sera del giovedì 3 maggio 2007. Lei e la sua famiglia alloggiavano in vacanza all'Ocean Club di Praia da Luz, in Algarve, ovvero nella regione più meridionale del Portogallo. Quella sera sua madre è andata a controllare all'interno della sua stanza e la piccola Maddie era sparita nel nulla. In poco tempo parte un'indagine enorme e a livello europeo e mondiale. Fino ai giorni nostri hanno tirato fuori le peggio teorie di questo mondo, hanno rovinato vite di presunti sospetti e fatto tanti buchi nell'acqua. Dal 2020 il caso sta dando dei segnali interessanti. È stato arrestato un presunto colpevole, un certo criminale di nome Christian B. È stato trovato un bacino idrico dove potrebbe essere sepolto il corpo della bambina e nuove piste si presentano all'orizzonte. Ci sono molte domande che rimangono ancora aperte e senza risposta.